Sono nato nel 1997, ho 21 anni, è il mio compleanno, è il mio compleanno, ora è il mio ricordo. Io ho venuto in Italia per cercare la mia vita. Quando tu hai visto tante cose pericolose, tu non puoi vivere ancora queste, tu puoi andare davanti. E' davanti. Grazie. ROLLING DREAMERS The Human Factor Seconda puntata Dal primo ottobre, solo su Icarus. Alla prossima Alla prossima